Tanto non ti si vede che te stessi stiamo a ricapire? Ah no, perché mi prodono. Eh certo. Buongiorgio, buongiorgio, buongiorgio ragazzi. Oggi siamo qui in questo nuovissimo video in cui oggi spacchetteremo di nuovo le figurine perché il primo episodio è piaciuto a molti, devo dire, a molte persone, ecco. Cioè, anche se ha poche visualizzazioni e infatti non mi capacito come il video con Riccardo abbia un botto di visualizzazioni un fronte all'altro. Assurdo. Vabbè, non dilunghiamoci in altre chiacchiere e prendiamo subito questo bellissimo coso gigante in cui dietro ci stanno ancora un botto di pacchetti. E... Ecco questo. Ora iniziamo da prendendo, che non so, qualche pacchetto, facciamo per ora tre. Anche oggi mi assiste il mio schiavo in modo che se sbaglio qualche pronuncia almeno c'è chi mi, insomma, mi corregge. Ecco, già mi sta cadendo tutto. Non parte bene. Allora, abbiamo il signor Martin Caceres. E' assurdo. Bello. Poi, questo scudetto del... Vene... Devese... De Venezia. Ok, non riesci a dirlo. Bene. Andiamo benissimo. Poi abbiamo questi tre tizzi. I tre tizzi. Manco di che squadra sono. No. Vincent Laurini. Ok. Oh, questa è della squadra di Gervinio, del Parma. Gervinio è sempre con noi. No. Nicolo Fabi. A posto. Bene. Ora il codice, vabbè, non ci interessa il codice, va. Via, brutto codice. Secondo pacchetto, secondo pacchetto. C'era anche questo. Chi? Sasa? Se l'ho pronunciato male è perché... Non lo so, boh, io voglio male. Non lo so. Apriamo il prossimo pacchetto. Bene. Spacchettiamo, spacchettiamo, pacchetti. Pacchetti, pacchettini. Bene. Qui abbiamo subito i tre tizi. Attenzione, i tre tizi. Molto bello. Stavilan Lombatka. Ok. Molto bello. Poi la foto della squadra dell'Allas Verona. Che c'è un botto di figurine di questi. Poi abbiamo questi bellissimi mini scudetti strambi. Di cui uno è della Juve. E infatti come caso dopo c'è un tizio della Juve. Oh, di bala. Di bala. Wow. I tre tizi. I tre tizi che sono del... Non si sa. Perché sono di serie B. Quindi mi fanno cacare. Mi dissocio. Salvatore Molina. Molino... Molino bianco. Wow. E... Gian Piero Gasperini. Questo è proprio... Proprio wow. Rogerio. Roger... Ah vabbè. No. Non so che di. Roger... Rogerio. Già ci stiamo a rendere conto. Rogerio. Brasileiro. Sì, Brasileiro tra l'altro. Che si è. Che si è. Che si. Che si. Vabbè codice non ci interessa. E abbiamo... Lorenzo De Silvestri. Così. Molto bello. Wow. Poi i tre tizi. Ovviamente. Sempre con noi. Giovanni... Simoneone. Simeone. 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 Sì. Sì. Non ci vedo. Che cosa ho trovato? Assurdo, assurdo. Simone Verdi. Wow. Ti stimo. Perché ti chiami come me. Wow. Poi. Prossimo bocchetto. Io direi. Abbiamo il signor. Andreas. Cornelius. 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 Non l'hai visto. Proprio brutto. Proprio. 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 Vincenzo Italiano. Guarda. Vincenzo Italiano. Wow. Proprio questo. Luigi. Sepepe. Sepe. 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 Vaffamucca. Wess Sassuolo. Giacomo. Buonaventura. Perché non è cattiva l'avventura. È buono. Buonaventura. Buonaventura. Bene. Pacchettino. Pacchettino. Adesso. Codice che non ci interessa. Abbiamo il signor. Tolgai Araslan. O l'ho detto bene. Non puoi dire niente. Eh. Stavolta è. I rettizi. Che sembrano del Sassuolo. Ma in realtà non sono del Sassuolo. Poi. Matteo. Darmian. Wow. Veramente. Wow. Alejandro Gomez. Alejandro. Alejandro. Sì. Cacandro. Vladimir Putin. No. Vladimir. Vladimir. Golemic. Wow. Ok. Riamo. Apriamo. Oh. Apri. Andiamo. No. Ehi. 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 No. No. Questa per ultima. Abbiamo il signor codice. Il signor codice. Poi abbiamo il signor Cristian Ansaldi. molto bello. Cristian Ansaldi. Se tu ti metti così, ti si vede la bocca. Davvero? Sì. Wow. Un po' dopo devo tagliare il video. Devo tagliare in modo che l'inquadratura non ti si veda mai. Vabbè. Poi abbiamo il signor Darko Lazovic. Molto bello. Poi abbiamo il signor... Il signor Tretizi. È giustamente conosciutissimo. E uno è un barbone. Poi abbiamo il signor Takiero Toy Suam. Yam. Suam. E poi vabbè. Come cacchia si chiama? Viene dal Giappone poi. Quindi che cacchio ne so come si chiama. Wow. E infine. Asso degli assi. Bugo. Dov'è Bugo? Dov'è Bugo? Che succede? C'è Bugo. L'hai trovato? L'ho trovato. Eh. Prima non si sapeva dove era. Ma si è trovato Bugo. Eccolo. Eh. L'ho trovato. L'ho trovato. Eh. Eh. L'è introvabile. Però alla fine l'ho trovato. Non l'hai visto. Poi. Maglietta della Juve. Wow. Eh. Ma ancora facciamo vedere perché è brutta. Eh. vabbè io non tifo nessuna squadra. Mi dissocio. Roberto De Zerbi. Di Zerbian. Assurdo. Sadizio. Poi abbiamo il signor. LDS. LDS. Nisage. 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 No ma c'è un nome assurdo. Attenzione. Una carta rarissima. Che è una delle prime. Trofeo. Serie A team. Wow. Wow. E wow. E alla fine. C'è Daniele verde. Perché è giustamente vuole comunicarci che è viola. Mmh. Non è verde. Eh. È detto un nome verde. Allora abbiamo i tre tizi con al posto di una maglietta le lenzuola del loro letto. Molto belle. Vedi. Questo. Poi abbiamo il signor Riccardo Imporota. Imporota. Importunatore. Riccardo. Wow. Riccardo è lui? No non scherzo. Fa cacchio. E poi abbiamo Emanuel Vignato. Ok. E poi abbiamo questi tre scudetti della serie C. Che è proprio... Via. E... Tre scudetti? Che in realtà sono quattro. Quattro. Vabbè. Codice vai via. Perché non ci interessi. Poi prossimo, prossimo. Oddio basta. Quante carte. Troppo difficile. Troppa carta. Bene, bene. No, via. Ok. I tre tizzi con uno con la maglia strambica perché deve fare la normale. Poi abbiamo la foto della squadra del Milan femminile. Oh, è vero. Che ti ridi da dietro le quinte, regia. Lorenzo Montipo. 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 Enrico Pasquale Pratico. Bene. Patrick. Sandro Tonali. Con ali. Con ali o senza ali? Con ali. Questa è una cosa molto tempo fa. E vabbè. E il codice che fa carità. Ma detto questo ragazzi, spero che questi video vi piacciono. Lo scorso infatti è andato molto bene, il primo episodio. Molto bello, devo dire. Molto bello. E però, niente, di continuare. Ma detto questo, un saluto del vostro Yoshi. E ciao. Grazie. Grazie.